e buongiorno a tutti oggi c'è un bel sole oggi arreggiamo un po' tutte le stanze perché ieri siccome abbiamo già pulito tutto non puliamo dove abbiamo pulito, puliamo dove c'è bisogno passo un po' con con la scopa elettrica tipo qua in cucina dove ci sono le briciole e ci nuova stufa dove c'è sempre sporco ecco e poi oggi ci concentriamo con la cucina perché la cucina c'è sopra e niente grazie 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 guardiamo qua Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Buon appetito. E non quale? Ed eccoci qua. Anche però abbiamo finito. preferisco pulire una cosa ogni tanto. Tutti i giorni qualcosina. Non ci fingeriamo tutto insieme con me. Se no è un esatto. Grazie per esserci stato con me e spero che il video vi è piaciuto e alla prossima, ciao ciao!